Se il biglietto da visita del Bari in vista del derby del San Nicola è un 3-1 rifilato al Campobasso, quello del Foggia ha in sovraimpressione la vittoria nel derby contro il Monopoli. Un successo che mette momentaneamente alle spalle i mugugni del K.O. di Palermo. Gli attaccanti per me sono quelli che devono segnare, ha tuonato Zeman, e in effetti Ferranti ha risposto presente, dedicando il gol alla sua mamma. Ma a proposito di Bomber, la nota dolente, l'infortunio corso a Di Grazia all'inizio della gara, un attaccante su cui tecnico e società puntano. Curcio però si è fatto trovare pronto, nonostante non stesse attraversando il suo miglior momento. Il Monopoli invece si lecca le ferite. Terzo derby perso, terzo K.O. consecutivo e fronte pensierosa del presidente Laricchia, il quale in conferenza stampa, subito dopo la sconfitta, ha affermato che al Monopoli mancano le idee. Che sia un messaggio a Colombo con tanto di francobollo e ceralacca è evidente, e il prossimo esame si chiama Juve Stabia, squadra arcigna e arrabbiata dopo il passo falso casalingo contro il Picerno. Insomma, la favola Monopoli sta vivendo un capitolo negativo. Spetta Marco Piccini e i compagni voltare da subito pagina.